Operazione Vivere, per vivere, per vivere meglio, per vivere da subito su questo territorio. Questa è la vostra attività? Abbiamo voluto fare questo progetto per la donna, ma soprattutto per il bambino, perché l'esigenza di informare le donne è che esiste una legge sul parto in anonimato. Infatti abbiamo attivato questo numero verde nel reparto di ginecologia diretto dal professor Franchi in Borgo Roma. Dove le donne possono chiamare per avere informazioni sul parto in anonimato. Cosa succede? Da quando la donna chiama e viene a sapere che esiste una legge che la tutela nel caso non voglia tenere il proprio bambino, la donna da quel momento poi viene anche seguita dall'ospedale con un codice rosa, quindi un codice segreto, dalle prime visite alle visite successive, al momento in cui entra in ospedale per partorire. Quando partorisce con questo codice rosa, la donna partorisce e poi il bambino subito prende un'altra strada, non viene più messo nella stanza della donna, insomma viene staccato dalla donna. Poi il bambino tramite il tribunale dei minori va in adozione, quindi oltre a salvare la vita diamo anche la possibilità a questo bambino di essere accolto in una famiglia che gli darà amore. Il progetto poi, intanto il numero verde, è attivo anche per le urgenze, nel senso che se la chiamata dice che c'è un bambino che è stato abbandonato, subito questo numero si collega col 118, quindi esce un'ambulanza con il soccorso neonatale per andare a soccorrere il bambino, che poi anche questo prenderà la strada del tribunale dei minori. E poi una cosa importante che abbiamo in questi otto anni visto è che questo accompagnare le donne durante la gravidanza ha permesso tante volte alle donne di cambiare anche idea, perché probabilmente le ostetriche, le ginecologhe, i ginecologi che credono nella vita riescono a trasmettere questo. Poi per chiudere il cerchio di aiuto alla donna in questo lavoro abbiamo aperto al tempio votivo la culla salva bebè, che è la vecchia culla degli esposti, dove nel caso estremo proprio una donna non sa dove lasciare il bambino, potrebbe lasciarlo lì. Questa culla è collegata al 118, quindi nel caso gli allarmi che partono di sonori, visivi, eccetera, il soccorso viene subito dal 118. Questo servizio non è mai stato usato ad oggi, mentre il numero verde salva bebè è 8 anni, che funziona ed è attivo e ne siamo anche orgogliosi perché tanti bambini stanno vivendo.